Lamenta l'assenza di una concretazione da parte dell'amministrazione Salvemini riguardo le povertà e i bisogni dei leccesi. Adriana Polibortone, candidata sindaco del centrodestra, la quale ha sottolineato come a fronte di un'evidente emergenza abitativa, nel capoluogo salentino ci sono progetti e cantieri inspiegabilmente interrotti e abbandonati al degrado. Ben 75 gli appartamenti sui quali l'amministrazione comunale di centrosinistra in sette anni di governo della città non ha fatto alcun intervento, accusa Polibortone, che promette di farsi carico della situazione, invitando a mettere a disposizione di quelle famiglie che da anni attendono di poter avere un tetto, gli alloggi. Lunedì sera intanto davanti Porta San Biagio firmerà il documento con il quale Salento Pride in 10 punti chiede ai candidati sindaco l'attuazione di una politica in chiave antidiscriminatoria. Per mia natura non ho mai discriminato nessuno, ritenendo che ciascuno è libero di fare ciò che ritiene, anche riguardo la sessualità nel rispetto delle norme del vivere civile che valgono per tutte le persone, ha dichiarato la candidata sindaca del centrodestra intervenendo sul tema.